Dottore Trubbia, le sale operatorie, o meglio il blocco operatorio chiuso, è la consigliera Petitto che fa un intervento violentissimo sull'inefficienza dell'ospedale Sant'Elia. Sì, abbiamo avuto un problema legato a questo evento atmosferico imprevisto, motivo per cui il blocco operatorio si è allegato, soltanto le sale, per fortuna del blocco operatorio, sono in atto non operative. Naturalmente, come ho detto già ieri sera, tutti gli interventi in emergenza continuano ad essere garantiti presso il Presidio nelle sale operatorie afferenti al blocco parto. Il nuovo blocco parto, inaugurato qualche mese addietro, composto da una sala parto e due sale operatorie. In brevissimo tempo abbiamo affrontato una sala operatoria fruibile da tutte le discipline chirurgiche per affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Intanto c'è una mail interna che dava disposizioni di bloccare tutte le emergenze e tutte le urgenze che sarebbero arrivate all'ospedale Sant'Elia. Per un hub di secondo livello è un po' troppo bloccare gli arrivi emergenza-urgenza. Naturalmente noi ci prefiggiamo di garantire lo stato di salute dei nostri concittadini, motivo per cui collaboriamo con la centrale operativa del 118 e insieme i 118isti decidono se a far afferire presso il nostro presidio piuttosto che presso altro presidio nel quale il paziente può ricevere le migliori cure, step by step. Però gliel'avete detto voi non portate qui nessuno? Non ricordo io la mail in questione, comunque il... Ma la mail c'è dottore, esiste? La mail ci sarà, naturalmente le emergenze che sono arrivate nella giornata di ieri ne sono arrivate due, sono state tutte trattate nel più breve tempo possibile, nel miglior modo possibile, in piena collaborazione con tutti gli attori protagonisti. E quindi è una questione di fortuna che non ci è scappato il morto? Assolutamente non è una questione di fortuna, l'azienda ci paga per lavorare, per organizzare, per gestire anche questi imprevisti, qualsiasi presidio ospedaliero può essere interessato da un imprevisto del genere. Naturalmente non siamo stati noi a provocarlo, gli eventi atmosferici sono imprevedibili, motivo per cui, proprio per tutelare lo stato di salute del paziente, abbiamo dovuto rendere non praticabili le sale operatorie, proprio per evitare l'eventuale rischio di sviluppo di infezioni. Quando saranno aperte? Stiamo lavorando alacremente, gli uffici mi confermano che entro la prossima settimana tutto tornerà alla situazione di normalità. Non le sembra un po' troppo, sette giorni? Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno, ricevo aggiornamenti, mi sta in questo momento vibrando il cellulare, dagli uffici continuano a chiamarmi per aggiornarmi costantemente. I cittadini pagano le tasse e hanno necessità di avere servizi urgenti e precisi, e invece all'ospedale Sant'Elia è sempre un continuo problema. Non glielo lascio dire perché noi lavoriamo nell'interesse esclusivo del cittadino, noi siamo medici per cui ci occupiamo del completo benessere del psicofisico del cittadino, garantendo il suo stato di salute.